Bitcoin 67.257 dollari e amici ieri Bitcoin sembrava la più classica delle shitcoin abbiamo visto un meno 14% nell'arco di appena un'ora che cosa sta capitando ci dobbiamo preoccupare sta finendo la bull run scopriremo il tutto in questo video insieme e amici soprattutto attivate la campanella e iscrivetevi al canale se trovate interessanti queste informazioni qui amici vedremo qualche criptovaluta per poter fare del trading in questo momento non segnalata da me in questa volta ma segnalata direttamente dalla redazione di Crypto News allora cominciamo intanto dicendo che l'ex dirigente di Goldman Sachs in questo caso Raoul Paul che era un gestore di hedge fund ha detto che ogni volta che ci sono delle liquidazioni quindi in pratica quando il prezzo di Bitcoin scende sono delle ottime opportunità di acquisto questo naturalmente è vero allo stesso tempo lui si è tirato fuori da alcune operazioni di trading nel senso che definendo il settore delle criptovalute ridicolo e dal lato ragazzi è così perché non si può vedere un meno 15 più 15% nell'arco di 20 minuti però allo stesso tempo bisogna pensarlo come un gioco per computer probabilmente questo è esagerato lui dice che preferisce molto più il buy and hold rispetto al trading questo perché perché ieri sono stati liquidati 296.000 trader quindi 300.000 trader per un totale di fra short e long di circa un miliardo di dollari quindi una cifra spaventosa mi domanda un po' a chi è andato in tasca questa cifra? scrivetelo qua sotto nei commenti vi posso dire che purtroppo non è il marchese del cripto per quanto riguarda alcuni analisti in questo caso Matt Hugan chef investment di Bitwise prevede che bitcoin supera gli 80.000 dollari quest'anno beh amici se continua così probabilmente supera anche i 150.000 oppure potrebbe arrivare a 20.000 visto insomma il comportamento che ha e se la gente non si calma un attimo soprattutto con le meme coin amici ma cioè tutte le meme coin che pompano quando succede così io ve lo dissi ve lo dico ve lo dico costantemente poi subito dopo c'è una correzione di bitcoin un flash crash insomma quello che c'è questo purtroppo ragazzi è quando vediamo la gente che va in fomo poi ricordatevi sempre che probabilmente il migliore indicatore è proprio il fear and grid quando sta su extreme grid è il momento proprio in quel caso lì di chiudere le posizioni le migliori criptovalute da acquistare in questo caso oggi 5 marzo questa seconda di joelle frank non sono miei consigli finanziari né di investimento stark net theta e optimism questo in virtù del fatto semplicemente a livello di grafico allora stark net innanzitutto è cresciuto di oltre il 25% e va bene con una capitalizzazione di mercato ancora modesta di poco più di 1.6 miliardi di dollari alla faccia se secondo lui è modesta potrebbe fare guadagni 5 per non ha dimostrato ancora niente stark net va bene e per quanto riguarda theta network invece a livello proprio di grafico ha rotto una resistenza e in questo caso potrebbe arrivare agevolmente a resistenza dei 2 dollari e 30 e quindi potrebbe arrivare ai 4 dollari e mezzo vedete qua da grafico insomma questa è la successiva resistenza quindi questa tutta una zona che dovrebbe essere facile da rompere questo sempre in teoria e l'altra a criptovaluta che ci suggerisce in questo caso è optimism perché perché ha rotto questi 4 dollari e 60 e poi naturalmente in questo caso è legata anche al discorso di ethereum ma per quanto riguarda ethereum in questo momento amici non ce n'è per nessuno insomma pompa come come un satanato ma adesso appunto andiamo a vedere tutti i vari grafici delle nostre amate criptovalute e poi vi faccio vedere anche una cosa ragazzi importante che già vi ho detto nel video scorso però ho notato proprio dei punti fondamentali anche una come vogliamo dire una sorta di curiosità perché io faccio del trading quotidiano e quindi mi ritrovo insomma a vedere delle cose un po particolari allora cominciamo innanzitutto con cr o ragazzi cr o qui ha avuto come detto c'è una forza in questo momento davvero eccezionale tranne vabbè la liquidazione di ieri no che che dobbiamo fare questo è stata non è stata colpa di cr o del povero cr o ma è stata colpa di bitcoin ora in questo momento ragazzi qui abbiamo questa resistenza che qui è difficile io qua adesso se non ce la facciamo subito a superare qua e possiamo anche addirittura riscendere fino a qua fine 0 11 prima di poter ripartire tutto naturalmente dipenderà da alcune cose che poi troppo andremo a vedere insieme poi andiamo a vedere adesso solana per quanto riguarda la nostra amica criptovaluta ragazzi qui in questo momento si trova ad aver mantenuto questo supporto quindi in questo momento questo supporto sta tenendo benissimo vedete qua lasciato è stata brillantemente riassorbita e adesso qui ci troviamo a dover superare questi nuovi massimi però fondamentalmente non vedo difficoltà dato che siamo in uno spazio molto ristretto non so se galleggeremo ancora un po oppure romperemo subito oppure romperemo a ribasso se non dovesse resistere questa questo supporto ma in ogni caso il movimento mi pare insomma un bel movimento bullish ma anche se forse pure un'altra cosa del genere potrebbe non essere tanto malvagia vedremo un attimino adesso vediamo in questo caso cardano cardano qui ha rotto questa anzi innanzitutto questa capenendo ok che la diciamo la seguiamo da da un po ha rotto quest'altra adesso andata sopra ha ritestato come da manuale in questo momento questa base sta facendo da supporto vedete quindi se dovesse mantenere adesso possiamo dire uno slancio ancora rialzista per cardano sebbene questa qui è tutta una zona di resistenza questa qui dei 0.74 ok quindi in questo momento di 0 scusate 0.75 e in questo momento si trova 0.74 quindi se dovesse superare il prossima la prossima resistenza fondamentalmente importante eccola qua ragazzi sta a un dollare 20 quindi possiamo vedere davvero uno slancio importante per quanto riguarda cardano avalance amici si trova sempre invece in questa situazione 40 dollari e 94 il problema è che qui abbiamo perso no vedete ieri siamo scesi ma può essere tranquillamente una falsa rottura visto che oggi la stiamo recuperando è importante capire la candela odierna come come chiuderà se dovessi chiudere qua sopra allora il movimento rialzista potrebbe continuare viceversa se no altrimenti si potrebbe scendere qui abbiamo anche questo no come come triangolo ok io poi in questi giorni ragazzi mi aspetto di tutti i colori e quindi ve lo dico già vi avviso ethereum è arrivato al nostro target 4.000 dollari in pratica quindi sta a 3.800 vedete questa tutta una zona di resistenza che sono diverse ma fondamentalmente l'ultima si trova a 4.800 dollari adesso si trova a 3.840 ethereum amici penso che uno possa stare relativamente tranquillo sebbene anche anch'esso è arrivato ieri a 3.200 non è sceso parecchio adesso sono a 3.840 quindi pensate insomma quanto è sceso con quel grazie a quel flash crash di bitcoin adesso invece guardiamo un attimino ondo ondo ragazzi è un pochino particolare perché vi faccio del trading ho anche chiaramente ondo come come criptoluda e vi posso dire che ieri è stata l'unica cripto che è iniziata a scendere prima poco prima che bitcoin facesse quel flash crash è un po' particolare sappiamo che c'ha degli investimenti con black rock cose varie poi se vi faccio vedere il grafico da 15 minuti anzi facciamo il grafico di un'ora che probabilmente si vede meglio qui ragazzi c'è una sorta di guardate qui come pump and dump pump and dump pump and dump non lo so ragazzi è un po' particolare questa questa cripto ok mi piace ma è molto istituzionale diciamo così ok si fanno molto i fatti loro se se vi interessa secondo il mio punto di vista e quindi comunque sia però è possibile utilizzarla anche come benchmark a questo punto cioè tenendo presente ondo i movimenti di ondo che scende prima che scende bitcoin o sono altro scende prima rispetto alle altre cripto valute che l'ho visto uno si può magari dare una regolata di eventuali e improvvisi flash crash bene adesso intanto mi perdo qualche cripto valuta e gld andiamo a vedere e gld come siamo messi e gld qui ha ritassato sotto è riscesa grazie a questo flash crash adesso ci troviamo in questa zona che dobbiamo ribucare per poter vedere una ripartenza non è nulla di che probabilmente verrà recuperata anche perché poi qui è stato un bel movimento però non si sa mai insomma questa è tutta una zona di resistenza questa di 63 ora si trova a 63 6 ma è una candela daily che ancora non è chiusa e anche se fosse vedete poi che è successo è stata è riscesa va bene e adesso voglio farvi vedere anche injective che injective qua a morotto siamo rientrati ho preso l'appennino sbagliato ora ci troviamo a 39 dollari siamo risaliti siamo riscesi ora siamo tentato di ribucare questa trend line beh non è la migliore in questo momento per fare del del trading perché naturalmente si trova su una zona di resistenza che però penso che possa essere agevolmente bucata al rialzo sebbene io in questi giorni adesso vi faccio vedere ho qualche dubbio ma questo dubbio deriva dal fatto che allora io questa qui ragazzi è la dominance di bitcoin allora innanzitutto che cosa succede io qui ve l'ho segnato qualche episodio qui che è successo nei scorsi momenti allora bitcoin non vuole perdere dominance in questo momento ok questa è è una zona di supporto vedete c'è fa dei dei movimenti proprio dai istituzionale novi se movimenti istituzionali non sono momenti da dare tale da da trader e via dicendo e che cosa e che cosa fa ogni volta che si trova qua sotto e poi recupera vedete questi questi movimenti che che avvengono avete qua ve l'ho segnati beh amici questi sono tutti i movimenti quando bitcoin fa dei flash crash piuttosto che dei pump cioè piuttosto che il crolla improvvisamente insomma c'è succede sempre qualche cosa qua proprio perché perché bitcoin vuole mantenere la dominance quindi a noi ci serve soprattutto se investiamo in al coin che questa dominance santissima venga rotta e questo e vediamo il la dominance di bitcoin scendere se no altrimenti in questo momento al 53 quasi 54 per cento significa che purtroppo domina il mercato e vedete non vuole perdere dominance non c'è niente da fare però mi spaventa la fintanto che sta qua sopra va anche bene guarda a questo punto senti cosa ti dico l'importante è che non mi fa questi movimenti perché sennò altrimenti qui fermatevi con il trading con le leve perché sennò qui vi liquida tutto ok pure riprende stop loss vabbè ok adesso andiamo a vedere la total la total market cap in questo caso quindi ad esclusione di bitcoin ed ethereum in questo momento ci troviamo in questa area di resistenza quindi questo qua per dire come possono andare le alt coin allora innanzitutto cominciamo vuol dire che non credo assolutamente che la bull run sia terminata ci vorrebbe essere delle correzioni però questo probabilmente me l'aspetto proprio in virtù insomma che adesso ci troviamo in questa in questa zona magari guardate pure pure galleggiare un po non sarebbe male c'è una rotazione dei fondi qui siamo a 662 billion di market cap nella passata bull run siamo arrivati a 1.13 trillion quindi orientativamente poco meno del doppio però noi abbiamo visto tutte le alt coin che fondamentalmente cioè se la dovessero raddoppiare il loro valore non raggiungiamo minimamente i valori perlomeno per quelle a capitalizzazione maggiore che abbiamo visto nella passata bull run questo perché perché sono nate tante cripto valute nuove e quindi naturalmente la liquidità viene un pochino spartita seconda cosa poi perché le persone mettono i soldi nelle meme coin più disparate costantemente che fanno sì che pepe possa andare su marte bonk e quegli altri insomma gli amici loro questo è quello che naturalmente avviene mettendo i soldi sulle meme coin comunque sia utilizzatelo come indicatore anche questo quando vedete le meme coin pompare probabilmente se siate sugli altri investimenti dopo qualche giorno non ho anche scritto su twitter tre o quattro giorni fa ho detto dopo tre o quattro giorni succederà qualcosa no? beh infatti così è successo perché è sempre così è ciclico bene e adesso invece andiamo a vedere il grafico di bitcoin perché il grafico di bitcoin ci interessa 67.200 dollari che abbiamo detto in apertura adesso qui abbiamo ritestato ragazzi questa zona che è il precedente massimo l'all time high adesso vediamo un attimino come si concluderà la candela odierna però a me sinceramente tutti questi movimenti così improvvisi di bitcoin non piacciono cioè non ho mai visto bitcoin in questa maniera soprattutto amici perché ci rovina il bull market cioè questo ve lo dico spassionatamente ci rovina tutto il discorso delle altcoin cioè non può passare da 50.000 a 67.000 in pochissimi giorni fare questi meno 15% in un'ora ci rovina un po' tutto ok cioè candele così possono essere accettabili anche se insomma preferirei un po' più piccoline ma ad ogni modo finché fa questi movimenti conviene stare in bitcoin rispetto alle altcoin ad ogni modo qui abbiamo ritestato i precedenti massimi ora adesso si potrebbe configurare o una sorta di galleggiamento in questa zona che me lo auguro amici con tutto il cuore se no altrimenti anche una discesa potrebbe non essere cosa negativa perché fino ad arrivare insomma a questi 52 potrebbe non essere assolutamente malvagio come situazione ad ogni modo per quanto riguarda le criptovalute in generale in questo momento il mercato sta messo bene quindi non mi sento dire che è terminata l'altseason non mi sento dire purtroppo che siamo rientrati in altseason fin tanto che bitcoin non si calma un attimino e quindi si finisce un attimo di effettuare questi movimenti così bruschi bene amici se avete trovato utili questi contenuti lasciatevi un bel like e iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video ciao